...per farti accettare questo vestito. E le calze, l'orologio? E tutto il resto. Dicono che regalare un orologio porti disgrazie a mandoriero. Da che questo orologio è al tuo polso assegnato le ore più belle della mia vita. Solo che ne ha segnate troppo poco. Ricordati dire, sei l'unica persona nella quale credo. Non si può credere solamente nelle cose reali o astratte che siano. Ma bisogna pur trovare almeno una volta nella vita una persona nella quale credere.